Benvenuti a questa lezione di programmazione ad oggetti in cui parleremo di configuration management. Il configuration management è un aspetto particolare dell'ingegneria del software che si occupa degli aspetti di gestione e correzione e controllo di quelli che sono tutti gli elementi che vengono utilizzati. In particolare si occupa di andare a identificare e documentare tutte le caratteristiche di quelli che sono i configuration item, ovvero gli elementi che vengono tenuti sotto controllo, controllare i cambiamenti che vengono fatti e registrare tutto ciò che è stato modificato e ovviamente anche permettere il controllo della corrispondenza a quelle che sono le regole di cambiamento. In particolare, quando dobbiamo andare a gestire il cambiamento, quello che ci chiediamo è qual è la storia di un particolare documento dove per documento intendiamo qualunque cosa, da un frammento di software a un documento testuale oppure a un modello grafico, ad esempio in UML, quindi qual è la versione, qual è la storia di un documento e quindi sostanzialmente dobbiamo andare a fare quello che è il versionamento, quindi mantenere traccia di tutto quello che è stata la storia di un documento. Chi può cambiare che cosa e come, quindi fare un controllo del cambiamento, dare i permessi e andare a decidere come eventualmente andare a fondere modifiche che potrebbero essere contrastanti tra di loro, qual è l'insieme di documenti che noi vogliamo andare a utilizzare per un certo scopo, ad esempio per rilasciare una certa versione di software. E come possiamo andare, una volta che abbiamo identificato quella che si chiama la configurazione, a costruire il sistema e quindi andare a occuparsi di quello che si chiama build management. Quindi l'obiettivo del configuration management in generale è quello di andare a identificare e gestire i vari componenti del software, quelli che prima abbiamo chiamato documenti, controllare l'accesso e il cambiamento di queste parti e garantire la ricostruzione del software ogni volta che è necessario a partire da una linea, da una configurazione ben definita. Il primo aspetto che vogliamo andare a gestire è quello che riguarda il versionamento. Normalmente un approccio che viene utilizzato senza nessun supporto è quello di andare a utilizzare il file system in cui noi andiamo a generare una prima versione del file, una seconda che speriamo sia quella finale, ci rendiamo conto che non è l'ultima quindi ne facciamo un'altra ne facciamo un'altra che è ancora una modifica con alcuni aspetti arrivano alcune modifiche che dobbiamo andare a implementare e alla fine ci accorgiamo ancora di un ultimo errore. Quindi andiamo a utilizzare un qualche convenzione di nomi che ci permette di mantenere le versioni. Ovviamente queste convenzioni di nomi sono difficili da mantenere, da rispettare e soprattutto sono difficili da tenere traccia e di gestirle in maniera opportuna. Per questo motivo c'è quella che si chiama la gestione delle versioni che prevede di andare a fare queste operazioni in maniera pulita e ben definita. È importante andare a capire alcuni termini che andiamo a utilizzare. Innanzitutto parleremo spesso di configuration item, ovvero un prodotto del lavoro che è svolto nello sviluppo del software e che è sotto il controllo e la gestione. Normalmente un configuration item ha un nome, ha tutte le versioni successive che sono mantenute e dobbiamo andare a definire quando aggiornare le versioni e ovviamente possiamo andare a prelevare una versione del passato senza problemi. A volte si parla di configuration management aggregate che è un insieme di configuration item. Le versioni dei configuration item sono di solito fatte ogni volta che io vado a fare una modifica e ovviamente posso avere diverse convenzioni per andare ad assegnare le versioni. Quindi io devo sostanzialmente andare a definire una procedura che mi permette in maniera non ambigua di assegnare una versione in modo da capire qual è la versione di cui sto parlando e andare a capire se una versione viene prima o dopo di un'altra ed eventualmente se c'è stata una modifica importante o meno. Normalmente le versioni vengono utilizzate, vengono numerate in maniera progressiva con vari numeri, ad esempio un numero intero, un numero decimale che vanno a indicare modifiche principali e modifiche secondarie. Un secondo aspetto importante, un termine importante da tenere presente è quello di configurazione. Una configurazione è un insieme di configuration item ciascuno in una particolare versione. Per cui se abbiamo una classe A nella versione 1.0 e una classe B nella versione 1.0 questi assieme formano quella che si chiama una configurazione, cioè è un punto ben fisso, spesso definito in un certo istante di tempo, in cui abbiamo certe versioni. Quindi quella è la configurazione o quello è l'insieme di classi da cui noi potremmo partire per andare a costruire quella che è una versione del nostro sistema complessivo. Nel momento in cui vado a creare una nuova classe, una nuova versione della classe A, ecco che ottengo, se volete, una nuova configurazione, che usa la prima versione della classe B e la seconda versione della classe A. Nel momento in cui evolvo anche la classe B, ottengo una terza possibile configurazione. Ovviamente non tutte le configurazioni sono interessanti, alcune lo sono più di altre e di solito vengono chiamate baseline, ovvero a un certo punto definisco che quell'insieme di versioni, dei configuration item, rappresenta una configurazione particolarmente importante e è quello che viene chiamato una baseline, ovvero è una fotografia in un certo istante di tempo del mio sistema ed è quella che io utilizzo per andare ad esempio a rilasciare il mio sistema. Quindi a volte alcune baseline vengono utilizzate per scopi interni, quindi a un certo punto congelo tutto e inizio a svolgere i test e a fare le correzioni, in altri casi una baseline è un qualcosa che verrà poi rilasciato come prodotto finale e quindi è un qualcosa di molto importante che verrà poi utilizzato per andare a produrre il software che verrà rilasciato. Quando parlavamo di versionamento, molto spesso viene adottato una tecnica di versionamento che si chiama semantic versioning, dove la numerazione viene fatta utilizzando tre numeri, major, minor e patch. Normalmente io faccio avanzare il major, quindi incremento di uno il major, quando ho un cambiamento molto significativo, a volte introducendo delle incompatibilità con le versioni precedenti e ho spesso dei cambiamenti dell'API. Il secondo numero che viene chiamato minor è quando io vado ad aggiungere nuove funzionalità, ma queste sono assolutamente compatibili con quanto c'era già prima, quindi non vanno a introdurre ad esempio incompatibilità col passato o modifiche molto significative che potrebbero cambiare il significato o lo scope del mio software. E infine il terzo numero viene chiamato patch e viene utilizzato quando io faccio semplicemente delle correzioni, quindi trovo un difetto e lo correggo e allora quando vado a rilasciare una nuova versione in cui ho fatto semplicemente correzione dei difetti andrò a incrementare il numero della patch. Una seconda funzionalità legata al configuration management è quello che si chiama change control, ovvero la necessità di andare a gestire i cambiamenti che vengono fatti ai vari configuration item e eventualmente in maniera conflittuale. Normalmente si fa riferimento a quello che è un repository, ovvero il contenitore logico-fisico in cui noi andiamo a mettere tutti gli artefatti dello sviluppo del software. Ovviamente repository a volte è anche un termine che viene utilizzato per andare a specificare non tanto il contenitore ma piuttosto il suo formato. Normalmente quando io ho un team che sviluppa del software è necessario avere tanti sviluppatori che interagiscono con il software e possono andare a sviluppare diverse parti e possono andare a modificare le varie parti eventualmente in parallelo. Quindi un repository solitamente è un qualcosa di condiviso e comune in cui vengono messi tutti gli elementi, quindi il codice sorgente ma anche i modelli, i requisiti, tutto quello che viene gestito durante lo sviluppo del nostro software. Il caso più semplice di repository condiviso è un file system a cui possono accedere più persone. Il problema dell'utilizzare un file system è che se immaginiamo di avere due sviluppatori RSL che entrambi copiano il contenuto del repository sulle proprie macchine locali, a questo punto tutte e due iniziano a fare una modifica allo stesso file, a un certo punto Henry scrive la propria versione, quindi salva sul repository centralizzato, poco dopo Sally fa la stessa cosa va a scrivere sul repository centralizzato. il risultato netto di questa operazione è che praticamente le modifiche fatte da Henry sono sovrascritte da Sally e quindi sostanzialmente scompaiono. Per cui normalmente è necessario andare a gestire queste operazioni di lettura e poi scrittura sul repository che vengono chiamate check-in e check-out in modo da garantire che modifiche fatte sostanzialmente in contemporanea non vadano a sovrascriversi una con l'altra o non vadano in conflitto in qualche modo. Ci sono due tecnologie, due tecniche principali per andare a gestire i conflitti o le possibili modifiche concorrenti una è quella che si chiama lock-modify-unlock e la seconda è che si chiama copy-modify-merge. Nel primo approccio le modifiche vengono serializzate quindi non è possibile che due sviluppatori modifichino contemporaneamente lo stesso file perché il primo fa un'operazione di lock nel secondo caso invece ho la possibilità di avere molti cambi paralleli e ovviamente ho la necessità a un certo punto di andare a mettere assieme e fare quello che si chiama merge diverse modifiche fatte contemporaneamente. La tecnica del lock-modify-unlock prevede che quando Henry ha necessità di andare a modificare il file faccia un lock e poi lega il file. A questo punto se Sally cerca di fare la stessa operazione il suo tentativo di lock fallisce perché il file è già bloccato. A un certo punto Henry finisce di fare le modifiche che quindi scrive la versione è sicuro che nel frattempo nessuno altro l'ha modificato perché il file è locked e fa un unlock del file. A questo punto finalmente Sally può fare il suo lock e fare la lettura del file per poi andarlo a modificare. Ovviamente con questo meccanismo è impossibile avere dei conflitti cioè è impossibile avere più modifiche fatte contemporaneamente proprio perché c'è il meccanismo di lock. Tuttavia è impossibile andare anche a fare qualunque operazione di lavoro contemporaneo perché se io faccio un lock chiunque altro è impossibilitato a modificare quel file e quindi questo potrebbe andare a introdurre dei ritardi significativi per cui se io e un altro sviluppatore dobbiamo contemporaneamente fare modifiche magari in due aree completamente separate dello stesso file ecco che non lo possiamo fare perché il primo farà un lock e andrà a escludere il secondo. Un altro svantaggio legato a questo modo di gestire i conflitti è dato dal fatto che è possibile che uno sviluppatore faccia un lock inizia a modificare e poi non faccia un lock per un po' di tempo in questo modo blocca tutto il team. Immaginate uno che inizia a fare un lock e va in vacanza per qualche settimana e dimentica di fare un lock. Questo ovviamente blocca tutto il team o comunque tutte le operazioni che devono essere fatte su quel file per le due settimane di vacanza del nostro sviluppatore. Per questo motivo è stato introdotto un altro meccanismo che si chiama Copy-Modify-Merge che è molto più flessibile però richiede un intervento potenzialmente attivo da parte degli sviluppatori che devono poi andare a gestire i conflitti che vengono però rilevati in maniera automatica dal sistema. Quindi mentre in un file system condiviso i conflitti io non riesco a rilevarli in questo contesto i conflitti mi vengono rilevati e quindi sono portato e mi viene richiesto di andare a risolvere questi conflitti. Come funziona il Copy-Modify-Merge? Sostanzialmente è possibile come prima che i due sviluppatori facciano una copia locale dei file li modifichino entrambi. A un certo punto uno dei due sviluppatori cercherà di andare a fare un'operazione di scrittura sul repository e il primo che fa questa operazione riesce tranquillamente. Il secondo cerca di fare questa operazione e sostanzialmente viene bloccato. Viene bloccato perché la versione A' scritta da Henry si basava sulla versione A che non è quella che c'è in questo momento su repository. Quindi il repository sostanzialmente permette di rilevare che c'è una versione intermedia che quindi io non posso andare a sovrascrivere. Quindi che cosa deve fare Henry se vuole scrivere la propria modifica? Deve andare a recuperare la versione che c'è attualmente su repository e in questo modo ha la propria versione la versione che c'è attualmente su repository e deve andare a fare quell'operazione che si chiama di merge ovvero deve andare a prendere le proprie modifiche le modifiche che sono state fatte su repository e fondere la serie. Una volta che le ha fuse e quindi dichiara che ha fatto una unione un merge di queste due modifiche può finalmente andare a scrivere. A questo punto chiunque vorrà andare a fare modifiche successive dovrà andare a leggere il contenuto e quindi questo permetterà di avere il risultato dell'operazione di merge. Ovviamente questo meccanismo è molto più flessibile possiamo avere tanti sviluppatori che lavorano in parallelo nessuno può bloccare nessun altro perché ovviamente vado a fare un'operazione di scrittura e se c'è un conflitto mi viene segnalato altrimenti la scrittura va avanti tranquilla è ovvio che deve esserci un po' di cura deve esserci del lavoro da parte di uno sviluppatore che a un certo punto si prende l'incarico di fare un'operazione di merge di diverse modifiche le proprie più quelle di qualcun altro che erano state scritte sul file. A volte per fare delle modifiche se sono molto complicate quindi non è semplicemente una scrittura di un file si utilizzano quelli che sono dei branch ovvero delle linee di sviluppo che esistono in maniera indipendente rispetto alle altre quindi sostanzialmente un branch è una copia dell'attuale configurazione di file su cui si lavora in maniera indipendente rispetto a quella principale. Perché devo andare a fare un branch? Beh sostanzialmente l'idea è di poter lavorare in maniera isolata rispetto a qualche altro sviluppo per cui ad esempio voglio aggiungere delle nuove funzionalità lasciando nel branch principale i file nella versione di partenza che potrebbero eventualmente essere corretti se ci sono dei bug dell'ultimo minuto finché il branch che sviluppa le nuove caratteristiche sarà completato e allora potrà effettivamente ricongiungersi col branch principale. Oppure se decido di andare a sviluppare una nuova versione e voglio lasciare il branch che corrisponde alla versione precedente che continua a essere attivo e mantenuto. Qui la nuova versione è in un branch separato quella vecchia continua la sua evoluzione nel proprio branch e i due sono assolutamente indipendenti. Ovviamente io posso in un certo futuro decidere di andare a fondere due branch. In questo caso cosa devo fare? Esattamente come nel caso dei conflitti precedenti i file che prima erano nel branch principale e adesso sono nel branch derivato potenzialmente saranno diversi perché saranno state fatte delle modifiche indipendenti devo andare a fare un'operazione di merge quindi io posso fare il merge su un singolo file che voglio andare a scrivere sul repository oppure posso fare un merge tra due branch che quindi coinvolge potenzialmente tanti file. Quali sono gli strumenti che possono essere utilizzati per fare il controllo delle versioni il versionamento? Beh ce ne sono diverse alcune sono un po' vecchie tipo RCS, CVS, SCCS e PCVS che sono meccanismi o strumenti di version control utilizzati negli anni 70-80 CVS è stato utilizzato fino agli anni 90 Subversion che a partire degli anni 90 è stato sostanzialmente il sistema di controllo delle versioni più diffuso più recentemente sono emersi un'altra serie di strumenti i principali sono BitKeeper, Mercurial e Git che hanno una caratteristica importante mentre Subversion ma anche CVS e gli altri RCS SCCS erano sostanzialmente dei repository centralizzati ovvero c'era un'unica copia dei file e tutti andavano a scrivere le proprie versioni di sopra oppure a scoprire che qualcuno le aveva modificate quindi doveva poi fare un'operazione di merge. Nel caso di BitKeeper, Mercurial e Git abbiamo a che fare con dei repository che sono sostanzialmente distribuiti. Cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà ogni persona ha una copia completa del repository sulla propria macchina quindi quando fa un'operazione di commit non può andare in conflitto perché è soltanto lui che lavora sul proprio PC. Il conflitto può nascere nel momento in cui io cerco di andare a scrivere nella versione quindi master, quindi centralizzata, del repository. Quindi ce n'è sempre una centralizzata che è più importante delle altre ma esistono tante copie mentre invece nel caso di server versioni di CVS uno ha una copia soltanto del suo proprio progetto non di tutto il repository. Il risultato è che nel momento in cui io scrivo non ho conflitti nel momento in cui io faccio un'operazione che di solito si chiama di push quindi mando i miei contenuti il contenuto di tutto il mio repository sul repository centrale ecco in quel momento può scatenarsi un meccanismo di conflitto e ovviamente che cosa succede? Che vado a risolvere il conflitto esattamente come nel caso delle versioni decentralizzate facendo un'operazione di merge. Mi viene segnalata la mia versione la versione presente sul repository e devo cercare di andare a metterli assieme. Un'altra caratteristica importante del configuration management è quello che si chiama build management in cui io devo andare a gestire una serie di operazioni devo preparare l'ambiente quindi ad esempio andare a scaricare delle librie andare a definire una struttura di cartelle generare dei file che sono costruiti a partire da altri compilazione o altre cose devo andare a raccogliere i componenti di terze parti quindi se ho librie che qualcun altro ha sviluppato devo andare a copiare andare a prendere l'ultima versione o la versione che prevedo di poter integrare nel mio sistema devo andare a regruppare tutto il mio codice sorgente che può essere ovviamente in locale ma potrebbe ritrovarsi su un sistema di controllo versioni devo fare l'operazione di compilazione devo andare a creare i package distribuibili quindi non so se sono in java devo andare a costruire un file jar uno più file jar devo eseguire i test e infine devo fare un'operazione di deploy quindi devo copiare il mio progetto su quelli che saranno i sistemi di produzione per gestire il build management che noi non abbiamo visto in particolare nel nostro corso perché il build veniva fatto in maniera automatica dall'ambiente di sviluppo che era Eclipse ci sono diversi strumenti make che è quello più antico che era stato sviluppato sostanzialmente per andare a costruire e mettere assieme diversi file in C ma che può essere utilizzato per fare qualunque tipo di compilazione quindi è assolutamente generale ant che è un po' più recente è sviluppato all'interno del progetto Apache ed è pensato per andare a fare il build di progetti Java quindi è specializzato per un certo linguaggio e poi abbiamo quelli più recenti che sono Maven e Gradle che sono un po' più sofisticati e permettono soprattutto di andare a gestire un sistema centralizzato in cui sono a disposizione tutte le librerie che mi servono nelle diverse versioni quindi sia Maven che Gradle Gradle sostanzialmente è un'evoluzione con qualche semplificazione di Maven hanno la capacità una volta che io dico che devo scaricare la versione 3.8.12 di JUnity di andarlo a recuperare in un archivio centralizzato e successivamente integrarlo all'interno del mio sistema questi strumenti permettono in maniera abbastanza agevole di andare a fare anche un'operazione successiva che si chiama di Continuous Integration ovvero di avere all'interno di un reposito in cui c'è tutto il mio codice fare un'operazione di build automatica ragionevolmente con gli strumenti che abbiamo visto prima eseguire in maniera automatica i test vedere un risultato e sostanzialmente ogni volta che viene fatto un commit si riparte con questo meccanismo di integrazione quindi viene fatta una compilazione vengono eseguiti i test su quella che è una macchina di integrazione e successivamente è possibile fare un ulteriore test andando a prendere il sistema mettendolo sulle macchine che sono sostanzialmente uguali a quelle di produzione ed eseguendo un altro test e poi fare quello che si chiama il deployment quindi rilasciare a patto che tutti i test abbiano successo il sistema direttamente sui server di produzione per fare la continuous integration vuol dire che quando io faccio un'operazione di commit automaticamente scateno su una macchina apposita un'operazione di estrazione dei sorgenti compilazione, esecuzione automatica dei test e deployment su un sistema finale ovviamente questo funziona se io vado a fare dei commit frequenti è ovvio che se faccio commit ogni due o tre settimane la continuous integration non è che sia molto utile devo fare attenzione a non fare i commit di codice errato non devo fare i commit di test di codice non testato quindi devo prima fare il test io in locale e poi fare il commit in modo che i test che vengono eseguiti in maniera automatica ragionevolmente almeno per quello che riesco a controllare io avranno successo e non fare commit quando il sistema è in uno stato che non è corretto per cui se qualcuno ha introdotto un errore è inutile che io vada a fare un commit su un sistema che comunque non passerà i test devo aspettare che quell'errore venga corretto dopodiché posso fare il commit sperando di non introdurre io un altro errore e sostanzialmente ogni sviluppatore è responsabile dei commit che fa e quindi sostanzialmente se fa un commit che porta a degli errori ragionevolmente deve restare lì e risolvere il commit risolvere gli errori finché il sistema non è in grado di fare un build del sistema corretto con tutti i test che passano per gestire i meccanismi di continuous integration ci sono anche qui diversi strumenti c'è Travis che è un sistema tra l'altro integrato all'interno di Git Jenkins da cui sostanzialmente è derivato Travis e poi ce n'è un altro che è Cruise Control sia Travis che Jenkins sono open source invece Cruise Control è un sistema proprietario vediamo ora come possiamo fare le operazioni di version control utilizzando Subversion qualcosa abbiamo già visto durante il corso in maniera un po' più pratica l'idea a questo punto è quella di andare a capire nel dettaglio che cosa significano le operazioni che abbiamo fatto e come possono essere gestite soprattutto in un contesto multisviluppatore finora voi avete sviluppato da soli sui vostri repository ovviamente le cose cambiano abbastanza nel momento in cui più persone lavorano sullo stesso repository e quindi possono nascere i conflitti che cos'è Subversion? è un sistema di controllo delle versioni e open source è in grado di gestire dei file e directory all'interno di un repository centralizzato ed è in grado di memorizzare tutto quello che è stato fatto tutte le modifiche che sono state fatte ai file e ai directory e permette di accedere ai repository attraverso la rete utilizzando diversi protocolli le caratteristiche principali di Subversion sono la capacità di andare a gestire le configurazioni anche delle cartelle non soltanto dei singoli file gestire i commit in maniera atomica quindi è impossibile cioè i commit o avvengono tutti completamente oppure falliscono è in grado di fare mantenere la versione anche dei metadati relativi ai file ad esempio posso dire che il contenuto di un file è di tipo HTML e questo è ovviamente un esempio di metadato permette di avere diverse strutturazioni nella topologia di accesso alla rete gestisce i dati in maniera consistente e uniforme permette di fare ovviamente breaching quindi definire più branch all'interno del nostro reposito per lo sviluppo ed è utilizzabile da tantissimi linguaggi quindi esistono dei client scritti in tanti linguaggi che possono funzionare su diversi sistemi operativi l'architettura in maniera sintetica prevede un repository che si appoggia su due tipi diversi di database che ci interessano relativamente poco al repository è possibile accedere tramite un server proprietario che utilizza un protocollo suo oppure tramite un web server quindi utilizzando dei moduli all'interno ad esempio di Apache che è un web server molto diffuso che permettono di accedere al repository utilizzando in pratica il protocollo HTTP o la versione sicura HTTPS quindi l'accesso al repository avviene attraverso internet e viene fatto da quello che è una libreria di classi o di funzioni che permette di accedere a un repository la libreria sostanzialmente si appoggia a quella che è una working copy quindi la copia locale dei file ad esempio nel caso di Eclipse la libreria client che abbiamo utilizzato si chiama svnkit questa libreria viene utilizzata da un'applicazione nel nostro caso Eclipse come è fatto il nostro repository? sostanzialmente è un repository centralizzato a differenza di altri sistemi quali ad esempio git e memorizza le informazioni come un file system quindi in termini di file, cartelle, sottocartelle ogni file può essere letto o scritto da quanti utenti vogliamo tramite delle operazioni che si chiamano di update quando un utente legge i contenuti e aggiorna la propria copia o di commit quando i file vengono scritti su repository un concetto importante per Subversion ma in realtà per tutti i sistemi di gestione delle configurazioni è quella che si chiama la working copy ovvero una copia che abbiamo noi sul nostro computer locale dei file o delle risorse più in generale che sono memorizzate sul repository centralizzato quello che noi facciamo inizialmente quando vogliamo andare a lavorare su un insieme di file è fare un'operazione di checkout il checkout che cosa fa? prende i file che sono sul sistema crea una cartella in locale e li copia dentro successivamente potrò andare a fare delle operazioni di update che sostanzialmente cosa fanno? vanno a vedere se sul repository c'è qualcosa di diverso quindi sono stati cambiati i file oppure ne sono stati aggiunti o cancellati e aggiorna la nostra copia locale viceversa posso fare un'operazione di commit che invece di andare a aggiornare la mia copia locale in base a quello che c'è sul repository prende tutte le modifiche che ho fatto io in locale e le manda a repository ogni volta che viene fatta un'operazione di commit il repository incrementa il numero di revisione il numero di revisione è un numero intero che parte da zero appena ho creato repository e viene incrementato di uno ogni volta che viene fatto un commit ovvero ogni volta che nel repository viene salvata una modifica quindi ogni volta che io faccio una modifica complessivamente il mio repository incrementa il suo numero di revisione ci sono un paio di revisioni che di solito non vengono menzionate per numero ma con il nome head e base head è l'ultima revisione che c'è in un certo istante sul repository mentre invece based è l'ultima revisione che io ho incorporato nella mia working copy o tramite il checkout quindi l'operazione iniziale di copia oppure tramite un update quindi l'update cosa fa? aggiorna i miei contenuti e mette la mia base uguale a quella che è l'attuale head del repository quindi sostanzialmente se noi abbiamo all'interno del nostro repository queste sono le varie revisioni del mio repository la versione head e la versione base sono uguali perché ho fatto un update se qualcun altro ha fatto una serie di commit ogni volta che viene fatto il commit la mia revision head cioè l'ultima revisione del mio repository andrà avanti e quindi la base la revisione della mia working copy resterà arretrato ok? se voglio andare a fare un aggiornamento quello che posso fare è fare un update che quindi sostanzialmente mi riporta la mia copia locale aggiornata e allineata a quella che è la head mettendo base uguale a head e aggiornando i contenuti dei file se invece di fare un update voglio andare a modificare i miei file in locale lo posso fare ovviamente una modifica resterà in locale finché non vado a fare un'operazione di commit l'operazione di commit che cosa fa? prende il file modificato e lo va a scrivere nel repository ovviamente il tutto va a buon fine se quel file non è stato nel frattempo modificato da nessun altro quello che ottengo è che all'interno della mia working copy il nuovo file sarà allineato alla base che corrisponde alla nuova head che intanto sarà avanzata di una posizione mentre invece i vecchi file che non sono stati modificati sono ancora ancorati alla vecchia base che era 1, 2, 3, 4 e 5 revisioni prima a questo punto ho quella che si chiama una situazione di revisioni miste per cui il file che ho appena modificato e che è stato scritto sul repository avrà una certa base che è uguale alla head per definizione quando ho scritto un file head viene aggiornato e quindi questo corrisponde alla nuova versione mentre invece i vecchi file sono ancora ancorati alla vecchia revisione quindi ho alcuni file con una revisione vecchia e alcuni file quelli modificati con una revisione più nuova per risolvere questo problema devo andare a fare un'operazione di update che sostanzialmente mi porta tutti i file allineati alla head attuale del mio repository qual è la procedura normale per andare a operare su un repository subversion? allora inizialmente viene fatto un check out che è l'operazione che voi fate in Eclipse facendo un import from SVN quello è sostanzialmente un'operazione di check out a un certo punto quando decidete di voler lavorare sui vostri file andrete a fare un update ovviamente l'update è utile se pensate che nel frattempo qualcun altro possa aver modificato il repository se il repository è vostro o personale e ci lavorate solo voi ovviamente questa operazione di update è inutile lavoriamo sui nostri file in locale nella nostra working copy eventualmente aggiungiamo alcuni file al sistema di controllo di controllo delle versioni questa operazione in Eclipse è fatta in maniera automatica nel senso che quando genero un nuovo file automaticamente questo mi verrà poi aggiunto e poi quando ritengo di aver fatto una certa quantità di lavoro coerente e corretta vado a fare un'operazione di commit andando a specificare quello che è un messaggio messaggio che verrà poi registrato nel repository per andare a descrivere la modifica che è stata fatta come vado a strutturare i messaggi beh normalmente vado a mettere un tipo di modifica ad esempio fix oppure feature quindi nuova versione il contesto in cui ho fatto questa modifica se è un sistema molto grande magari ho lavorato soltanto in un package o in un sottosistema una breve descrizione molto sintetica un body in cui vado a descrivere un po' più nel dettaglio che cosa ho fatto ed eventualmente un footer con alcune informazioni aggiuntive ad esempio fix l'ho fatto all'interno del middleware che cosa ho fatto ho garantito che i range header siano aderenti in maniera più stretta a una certa a un certo standard qui ho descritto specificatamente che cosa ho fatto e poi nell'header ho messo fixes e un riferimento i riferimenti normalmente puntano a un difetto che è stato registrato quindi mettendo questo riferimento è possibile in maniera automatica agganciare una certa operazione di commit alla risoluzione di un difetto cosa che è molto utile se voglio tenere traccia di quando un difetto viene registrato e di quando viene risolto tutto ciò funziona bene finché non ci sono i conflitti un conflitto nasce nel momento in cui è stato cambiato un file locale nel frattempo lo stesso file è stato cambiato da qualcun altro ed è stato scritto nel repository prima che lo faccia io a questo punto in generale Subversion è in grado di capire se c'è un conflitto nel caso in cui add sia maggiore di base ovvero qualcuno ha modificato il repository e se add è maggiore di base va a vedere se per il file che io sto cercando di andare a scrivere tramite commit il contenuto è diverso rispetto a quello che ho io in locale quindi questa è una verifica che viene fatta inizialmente se questo non è vero cioè se add è uguale a base vuol dire che nessuno ha modificato il repository quindi non ci può essere nessun conflitto se invece questa condizione è verificata allora viene fatto un controllo più specifico sul contenuto in questo caso cosa succede? succede che io devo andare a risolvere in qualche modo il conflitto quindi il commit non va a buon fine mi viene segnalato un errore a questo punto devo fare un'operazione di update quindi andare a prendere i file che stanno sul repo portarli in locale in modo da capire quali sono le diverse versioni quindi una volta che faccio un'operazione di update in seguito a un conflitto il file che io volevo andare a modificare che qualcun altro nel frattempo ha modificato verrà presentato in tre versioni diverse sostanzialmente un mine che è la versione che io avevo appena modificato quindi quello che io cercavo di cui cercavo di fare il commit una filename.r old revision cioè la revisione base precedente quindi prima che io facessi l'update quindi questa è la versione da cui sono partito per andare a generare il mine e poi filename.r new rev che è la versione che c'è adesso su repository con revisione add oltre a questi tre file che quindi sono dei file veri e propri quindi tre fotografie dello stesso file quando io sono partito che cosa io ho modificato e cosa c'è attualmente sul repository cioè quella modifica è stata fatta da qualcun altro il file originale viene modificato andando a mettere dentro le mie modifiche e le modifiche fatte da qualcun altro e memorizzate sul repository vediamolo in un esempio molto semplice quindi immaginiamo che ci siano siamo noi e Sally che cerchiamo di andare a modificare un file che si chiama sandwich.txt io ho fatto delle modifiche nel frattempo Sally le ha fatte di stata più veloce di me ha scritto sul repository cerco di fare un commit e a questo punto ho un conflitto a questo punto faccio svn update e mi dice che ovviamente mi conferma che c'è un conflitto e a questo punto posso andare a dire di posporre la risoluzione quindi lasciare a me l'onere di andare a fare qualcosa volendo posso andare a dire di stamparmi un diff completo delle modifiche oppure direttamente di fare un edit ok io così sospendo un attimo mi dice che sandwich.txt è cambiato a questo punto all'interno della mia working copy quindi del mio file system locale troverò sandwich.txt che è quello il file incriminato mine è quello che contiene le mie modifiche r1 è la versione di partenza ed r2 è la versione che è stata scritta da Sally all'interno di sandwich.txt ho un mix delle mie modifiche e di quelle fatte da Sally per cui il contenuto del file sostanzialmente conterrà delle righe che non sono state toccate né da me né da nessun altro sono queste che vediamo qui a un certo punto ci sarà mine e quindi le modifiche che ho fatto io e r2 le modifiche che sono state fatte in questo caso da Sally e che sono state registrate in un commit precedente a quello che cercavo di fare io a questo punto questi marker quindi minore 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 maggiore 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 racchiudono una zona del file in cui ci sono modifiche in conflitto e quindi che cosa devo fare devo andare a prendere un misto tra le modifiche che ho fatto io e le modifiche che ha fatto Sally e andare a mettere un tutt'uno quindi che cosa faccio vado sostanzialmente a prendere tutta questa zona e scrivere una nuova versione quindi sta a me risolvere quello che è un conflitto a questo punto una volta che ho eliminato i marker di modifica all'interno del file che cosa faccio vado a fare un'operazione di resolve dicendo che il conflitto è stato sistemato quindi ho risolto io il conflitto non c'è più nessun conflitto a questo punto una volta che il conflitto è stato risolto vado a fare un commit andando a specificare che cosa ho fatto quindi sta a me che arrivo per ultimo e cerco di fare un commit risolvere il conflitto prendendo la modifica che è stata fatta e cercando di integrare al suo interno le modifiche mie aggiuntive due cenni molto veloci sui branch in subversion non li abbiamo utilizzati ma giusto per sapere come vengono gestiti in subversion sostanzialmente in subversion quello che posso fare è di andare a gestire i branch non direttamente perché il concetto di branch non è presente direttamente in subversion ma andando a gestire quelle che sono delle copie quindi io posso andare a prendere una cartella del mio repository copiarla completamente e quindi utilizzare quella copia per andare a fare le modifiche in un branch separato quindi l'idea è che io mantengo in due cartelle separate due copie degli stessi file e poi li vado a modificare in maniera sostanzialmente indipendente qual è il vantaggio utilizzare le copie che sostanzialmente quando io faccio una copia subversion non mi fa una copia vera e propria nel repository ma punta alla versione da cui io sono partito quindi non mi crea nuovi contenuti ma semplicemente mi tiene traccia di qual era la versione iniziale quindi non occupo particolare spazio andando a creare una copia quindi quello che viene enormemente fatto è quello di andare a prendere una cartella che si chiama branches prendere il contenuto dei miei file e andarlo a mettere sotto una nuova cartella che vado a creare sotto branches la struttura che normalmente viene utilizzata in un repository subversion quando voglio utilizzare più branch è di avere tre cartelle a livello top che si chiamano trunk branches e tags trunk contiene il branch principale quindi i file su cui io vado a lavorare branches contiene al suo interno tante sottocartelle quanti sono i branch che io ho creato sostanzialmente all'interno per iniziare un nuovo branch cosa faccio prendo la cartella trunk la copio all'interno di branches e gli do un nome a questo punto i file che stanno in quella sottocartella iniziano ad avere una vita che è indipendente da quella originale dei file originariamente in trunk inoltre ho una cartella tags in cui posso andare a mettere quelli che sono degli snapshot ovvero posso prendere una copia del trunk oppure di uno dei branch e metterlo in una sottocartella sotto tags questi vengono utilizzati per andare a fare quelle che sono le versioni o release del mio sistema quindi quando voglio andare a prendere una particolare configurazione dei miei file e congelarla ovvero farla diventare una baseline cosa faccio copio la cartella sotto tags e a quel punto tutto quello che è sotto tags per convenzione non viene più modificato viene mantenuto lì come una copia statica congelata mentre invece i file che strovo dentro trunk oppure uno delle sottocartelle di branches quelli sono normalmente soggetti a modifiche a volte può essere necessario andare a fare un'operazione di fusione tra quello che io ho fatto all'interno di un branch e quello che c'era nella mia branch principale ovvero nel trunk e questo lo posso fare tramite un comando che si chiama merge merge sostanzialmente funziona un po' come l'operazione di risoluzione di un conflitto che ho fatto in locale solo che invece di operare sui singoli file di un commit opera su tutti i file che sono diversi tra il trunk e il branch che sto andando a considerare non entro oltre nei dettagli della gestione delle merge e dei diversi branch in subversion diciamo che se ne avrete bisogno i concetti fondamentali sono questi quindi l'idea di avere una cartella con una copia che poi mantiene una vita sua particolare e separata da quella originale per riepilogare è importante ricordarsi che quando parliamo di configuration management dobbiamo andare a considerare il problema del versionamento il problema delle configurazioni il problema del controllo dei cambiamenti e il problema del build management tutti questi collettivamente vanno a costituire i problemi gestiti dai sistemi di gestione delle configurazioni che sono vari ovviamente non tutti sono in grado di coprire tutti questi punti per cui ad esempio subversion che è il sistema che abbiamo utilizzato in questo corso copre sostanzialmente i primi tre punti il build management non è coperto da subversion è un qualcosa che di solo viene coperto da altri strumenti quindi ad esempio abbiamo menzionato make, hunt abbiamo menzionato maven e gradle che sostanzialmente si concentrano principalmente sul build management e non fanno invece le altre parti di versionamento configurazione e gestione del cambiamento